Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di BattleforGames, io sono Carlo e oggi siamo qua tornati per fare un video su Call of Duty Advanced Warfare Allora ragazzi, vi porto una partita come vedete tutti contro tutti su Retreat Allora, credo che utilizzerò una mitraglietta perché su questa mappa mi ci trovo abbastanza bene Adesso comunque vedo Il gioco mi sta piacendo veramente tanto, ce l'ho dal giorno dell'uscita praticamente dal day one E ci ho nerdato, ci ho nerdato, sono arrivato al livello 34 per ora e mi sta piacendo Soprattutto anche per tutte le nuove cose che hanno implementato, ad esempio il doppio salto così no ragazzi A me piace, poi non lo so, magari un parere personale Scrivetemelo qui sotto nei commentini Va bene, usiamo il KF5, iniziamo a nerdare pesantemente, cerchiamo di uccidere tutti e cerchiamo di vincere questa partita Ok, il primo è andato, ho scoperto che se gioco senza cuffie ragazzi mi riesco a concentrare di più, non so per quale fattuto motivo Ma è così, come vedete ragazzi sono già a 2 kill L'ultimo partito che ho fatto, ho fatto un 30-12 allucinante Praticamente gioco sempre su No, 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 ma c'è chinato in pieno questo proprio, ma c'è entrato Gioco sempre su tutti contro tutti perché è una modalità che mi piace tantissimo Questo muore, grazie Io non lo so, a me piace, consigliatemi anche delle modalità da giocare nei commenti Se ogni tanto mi blocco è perché sono concentrato e sto cercando di uccidere un nemico Ragazzi, registrare un video di COD e parlare, secondo me è la cosa più difficile che si possa fare nella vita Perché non si possono fare due cose contemporaneamente Però sto facendo la strage, c'ho già il UAV raga, c'ho già il UAV L'altro giorno ho provato a registrare con le cuffie e non ci riesco Perché con il sound nelle orecchie che mi spara Ragazzi, vi giuro che non ho mai fatto una partita così Stavo dicendo che con le cuffie che mi sparano nelle orecchie Ecco E non riesco a giocare, cioè non riesco a parlare più che altro Parlare e giocare, tutti e due Non so perché, magari Basta, adesso devo smettere di parlare e ricominciare a giocare Te lo muore, grazie Detto che muori, grazie 9,5 Vieni qua, corri C'ho il perk che ti aumenta la velocità quando premi il tasto Q dell'esoscheletro E con le mitragliette proprio vai veloce Voli praticamente Guardate se va veloce, ragazzi, guardate se corre Corri Ok Ci stanno recuperando piano piano Ma noi non ci faremo recuperare Perché adesso io vado a cercare degli enemies Tipo quello E poi vado su di qua Ok No, no, no Col cecchino Ma che palle sto cecchino che ti sciotta Muori No, 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 ragazzi Iniziano a non morire i nemici E' finita Che due coglioni, ragazzi, sto gioco Quando vuole non farti uccidere un nemico Non lo uccidi Aspettate che ce n'è un altro Forse Dov'è? Ah, no Ma è inculato Era se andato avanti 13 Eccolo L'ho visto là sopra Mori Bravissimo Così ti voglio Voglio che morite Dovete morire tutti Dai, di qua Tanto so che arrivano da dietro Arrivano sempre da dietro Sto gioco Non so Eccolo No Sì No Mamma mia Mi sta anche scaricando la telecamera Quindi speriamo che la partita finisca in tempo Prima che Ci devia andare una mossa In pratica, ragazzi Devo fare altri 16 kill Per vincere No, 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 no No, è mio Ricarica, veloce No No, mi ha recuperato questo, ragà È la fine È la fine Devo iniziare a rigiocare Era partito benissimo Non muore Muori Mi sta salendo il crimine, ragazzi Non muoiono più, eh Vabbè, l'ultimo non li ho proprio sparato Però, cioè no Non muoiono più 16, no Mi hanno recuperato Di brutto Mi hanno anche passato Eccolo Guardate il camperino nell'angolo L'aidissimo Di qua Andiamo di qua Veloce Veloce Sono tutti camperati Su sti cazzo di tetti Ecco No, l'ho visto bene Muori stronzo Muori stronzo Di merda Che palle, ragazzi Che palle È una lotta Fina all'ultimo sangue Questo, eh Non li trovo Ma ci sono nemici In sto server, no Eccolo Grazie, muori Dov'era? Camperato, eh Figurati Figuriamoci Se non sono camperati In sta mappa Dietro Sempre da dietro Vecchio Muori Vecchio Muori Te e i movimenti veloci Con quel cavolo di esoscheletro Non ci sono Ragazzi Non ci sono nemici In sto server Non trovo nessuno Non c'è È una cosa allucinante Eccolo Dai Ce la possiamo ancora fare Se ci concentriamo E non facciamo troppe stronzate Non facciamo Non faccio Poi non so Perché dico sempre facciamo Ma ok Eccolo Dov'è? Vuoi sapere Dove sei? Eccolo Dov'è andato Regà? No Guardalo Che si è camperato Lo stronzo Dai regà Ce la possiamo fare Ce la possiamo Eccolo Grandissimo Due kill E ho recuperato No 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 Non così però 19-15 Stiamo facendo Sono morto troppe volte In questa partita ragazzi Non è il mio solito Morire così tanto Ve lo giuro Il coltello Vaffanculo Stronzo Vai Veloce Corri 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 Eccolo Grandissimo 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 Vai 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 Non c'è mai nessuno Quando mi servono Non c'è mai nessuno Ma perché? Dove siete? Grande One shot Dai 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 Dove sono? No Non l'avevo visto questo Ragazzi Questo qui Proprio Sono Ceccato Io No Basta Questo coltello Basta Eh Ragazzi È finita No Le stronze Qui ce n'è uno Ce ne sono tutti qua sotto Mamma mia Tripla ragazzi Andate a fare tre In un colpo C'è quasi in un colpo solo Dov'è? No Mi ha preso al volo No Gli manca una kill ragazzi Non faccio più di tempo Che palle Non sono riuscito a vincere Almeno siamo secondi Secondi Strano Non arrivo mai secondo Eh Ovvero sempre Niente ragazzi Mi ha ucciso a me? No Non mi ha ucciso a me 25-19 La partita è finita Io spero che il video vi sia piaciuto La GoPro è scarica ragazzi Devo finire con il video E al prossimo video Speriamo di arrivare primi Così La partita diventa un po' più bellina E un po' più Io spero che il video Vi sia piaciuta La partita vi sia piaciuta Commenti qua sotto Commentate qua sotto Scrivendomi qualche modalità nuova da fare E da portarvi Io con questo ragazzi Vi saluto Spero che il video si sia piaciuto Iscrivetevi al canale Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale Scrivetevi al canale